Andrà garantito le distanze tra le persone e la sicurezza dei lavoratori. Questi sono i due elementi fondamentali, quindi questo comporterà necessariamente un numero molto ridotto di utenti, di passeggeri su ogni mezzo pubblico, sia un treno o sia un autobus, e di conseguenza il ricorso a tutte le risorse disponibili delle aziende che possono mettere a disposizione. Massimiliano Dindalini, presidente di TM, una delle aziende che gestisce il trasporto pubblico locale, ci spiega come potrebbe funzionare all'interno degli autobus e dei treni nella fase 2. Sugli extraurbani è semplice perché basta delimitare i posti a sedere, quindi si va sui 12-13 posti disponibili. Sugli urbani dipende la dimensione dell'autobus, però anche lì si va dai 9 addirittura ai 4 sui pollicini. Quindi la dimensione è quella di un'auto o di due auto, viceversa di come era fino a qualche settimana fa, dove su un extraurbano potevano salire 70-90 persone. Sarà determinante nell'affrontare la fase 2 l'organizzazione dei tempi di vita delle città, delle imprese e dei cittadini. Cioè dovremo cercare di evitare i picchi di traffico, i picchi di utenza nel trasporto pubblico per fare in modo che i mezzi a disposizione per ogni singola azienda, ma complessivamente in Toscana, siano sufficienti per garantire in modo scaglionato le persone nel loro tragitto, nel loro obiettivo di percorrenza. Il problema sarà nel fare le corse bis e le corse terra quando ci sarà bisogno, perché si misurerà questo problema con la disponibilità di autobus che le aziende hanno. Quindi evitare i picchi e quindi organizzare gli orari di accesso alle imprese, a settembre alle scuole, ai servizi pubblici, in modo scaglionato durante l'arco dell'intera giornata, consente di non avere tutte insieme le persone a prendere gli autobus, anche perché poi le distanze andranno garantite non solo sull'autobus, ma anche alle fermate, nei luoghi dove le persone si incontrano.